A far scoppiare il caso vaccini anti-influenzali è il vicepresidente del consiglio regionale Filomena Calenda. Siamo ormai arrivati a metà dicembre e oltre 60.000 molisani sono ancora in attesa di ricevere le dosi. Le parole della consigliera regionale che in una nota ricorda che nei giorni scorsi il presidente Donato Toma aveva annunciato l'imminente arrivo di circa 9.000 vaccini ma a tutt'oggi aggiunge non sono ancora nella disponibilità regionale e non sembrano essere sufficienti per coprire il fabbisogno della popolazione più a rischio. Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente della federazione italiana medici di famiglia del Molise il dottore Antonio Tartaglione che a teleregione conferma che se ancora lontani dal raggiungimento del target stabilito vale a dire 100.000 persone un terzo della popolazione secondo Tartaglione mancherebbero all'appello 20-30.000 dosi qualcosa spiega è arrivato ai colleghi ma si tratta davvero di poche dosi. Poi aggiunge che servirebbe chiarezza ed il rispetto della tempistica perché chi osa fare il vaccino dopo Natale non avrebbe alcun senso. 64.000 vaccini distribuiti da Federfarma altri 9.000 sarebbero in consegna. La regione Campania ne ha garantiti seguendo il principio di solidarietà altre 15.000 ma stenta a soddisfare la sua popolazione. Infine le 10.000 richieste dalla protezione civile. Il caso nei giorni scorsi è finito in Parlamento per l'onorevole d'Italia Viva Giugio Occhionero solo il 40 per cento degli over 65 ha potuto vaccinarsi. L'assicoltà della pandemia non può essere utilizzata per nascondere le mancanze del governo regionale molisano. Ecco perché noi chiediamo assolutamente di fare anche una riflessione sul titolo quinto della Costituzione attraverso il correttivo che Italia Viva ha sempre sostenuto di dover introdurre la clausola di supremazia. I molisani non sono cittadini di serie B. È necessario garantire la loro tutela e la loro sicurezza sempre.